Capitolo ventiseiesimo. Fuoco. Il primo dicembre era arrivato, giorno fatale, poiché se la partenza del proiettile non fosse avvenuta quella sera stessa alle 10 e 46 minuti e 40 secondi, sarebbero dovuti trascorrere oltre 18 anni prima che la luna si ripresentasse ancora nelle stesse condizioni simultanee di zenith e di perigeo. Il tempo era magnifico, benché l'inverno si avvicinasse. Il sole risplendeva e bagnava con i suoi raggi questa terra che tre dei suoi abitanti erano sul punto di abbandonare per un nuovo mondo. Quanti cattivi sonni durante la notte che precedette il giorno desiderato con tanta impazienza. Quanti petti oppressi dal grave fardello dell'attesa. Non ci fu cuore che non palpitasse di inquietitudine, tranne il cuore di Michel Ardain. Questo impassibile personaggio andava e veniva con la sua solita aria affaccendata, ma nulla mostrava in lui un inconsueto affanno. Il suo sonno era tranquillo, il sonno di Turenna prima della battaglia, sopra il fusto di un cannone. Fin dal mattino una folla innumerevole copriva le praterie che si estendono fin dove l'occhio giunge intorno a Stone Seal. A ogni quarto d'ora la ferrovia di Tampa trasportava nuovi curiosi e l'immigrazione prese ben presto proporzioni straordinarie e se dobbiamo stare ai calcoli del Tampa Town Observer, non meno di 5 milioni di spettatori calcarono il suolo della Florida durante questa memorabilissima giornata. Ma in un mese la maggior parte di questa folla si era attardata intorno al recinto e aveva gettato le fondamenta di una città che fu poi chiamata Ardainstown. Baracche, capanne, casucce e tende si rizzavano dappertutto nella pianura e queste abitazioni effimere alloggiavano una popolazione così numerosa da fare invidia alle maggiori città europee. C'erano rappresentanti di tutti i popoli della Terra, si parlavano a un tempo tutti i dialetti del mondo e la confusione delle lingue pareva essere come ai tempi biblici della Torre di Babele. Lì le diverse classi della società americana si confondevano in un'uguaglianza assoluta. Panchieri, coltivatori, marinai, sensali, piantatori di cotone, negozianti, battellieri, magistrati, si davano tutti di gomito con una confidenza del tutto primitiva. I creoli della Louisiana si affratellavano con i fittavoli dell'Indiana, i gentlemen del Kentucky e del Tennessee e i virginiani eleganti e superbi non sdegnavano di trattenersi con i cacciatori servaggi dei laghi e con i mercanti di buoi disinsinnati. Acconciati con il loro cappello di castoro bianco a falde larghe e con il classico Panama, con i loro calzoni di cotone azzurro delle fabbriche d'Opelusas, con i loro camiciotti eleganti di tela cruda e con gli stivaletti dai vivaci colori, essi ponevano in mostra stravaganti guarnizioni del collo di Battista e facevano scintillare alla camicia, ai manichini, alle cravate, alle dita e perfino alle orecchie un intero repertorio di anelli, di spilli, di brillanti, di catene, di orecchini e di ciondoli, il cui prezzo elevato uguagliava il pessimo gusto. Donne, fanciulle, servitori con acconciature non meno opulente, li accompagnavano, li seguivano, li precedevano e li circondavano. Questi padri, questi padroni avevano l'aria di capi tribù in mezzo alle loro innumerevoli famiglie. Allora dei pasti bisognava vedere tutta questa gente precipitarsi nelle vivande particolari degli Stati Uniti del Sud e divorare con un appetito minaccioso per gli approvvigionamenti della Florida alimenti a cui uno stomaco europeo si ribellerebbe, come rane e fricassea, scimmie stufate, fish chowder, ovvero un intingolo composto di vari tipi di pesci, poi sarigarrosto, opossum al sangue o bracioli di procione. E a un tempo che svariata serie di liquori e di bibite veniva in aiuto a questa alimentazione indigesta, che grida eccitanti, che voci rusinghiere rintronavano nei bar o nelle taverne ornate di bicchieri, caraffe, boccette e bottiglie d'ogni forma, ed immortai per pestare lo zucchero di fastelli di paglia. «Questo è sciroppo di menta!» gridava un'oste con voce rimbombante. «Chi vuole un bicchiere di sangarì con il bordeaux?» mugolava un altro. «E il jean sling?» ripeteva questi. «E il cocktail? E il brandy smash?» gridava quello. «Chi vuol gustare il vero sciroppo di menta all'ultima moda?» gridavano questi abili mercanti facendo passare rapidamente da un bicchiere all'altro, come un prestigiatore fa di una pallottola lo zucchero, il cedro, la menta verde, il ghiaccio pressato, l'acqua, il cognac e l'ananas fresco che compongono questo rinfrescante beverone. Di solito, questi incitamenti rivolti ai palati assetati si ripetevano, si incrociavano nell'aria e producevano un frastuono assolutamente assordante, ma quel giorno le grida erano rare. I venditori si sarebbero vanamente fatti rauchi nel provocare gli avventori, poiché nessuno pensava né a mangiare né a bere. Quanti alle quattro del pomeriggio camminavano in mezzo alla folla senza aver ancora fatto il loro consueto pasto? E, sintomo anche più eloquente, la passione violenta degli americani per il gioco era vinta dalle emozioni. Vedendo i birilli rovesciati, i dadi dormienti nei loro bossoli, la roulette immobile, il cribage abbandonato, le carte del whist, del ventuno e del rosso del nero, del monte e del faro tranquillamente chiuse nelle loro buste intatte, era chiaro che l'avvenimento del giorno assorbiva ogni altro bisogno e non lasciava adito a distrazioni di sorta. Fino a sera, un'agitazione sorda, senza clamori, come quella che precede le grandi catastrofi, corse in mezzo alla folla ansiosa in Ardance Town. Un malessere indescrivibile padroneggiava gli spiriti, un penoso torpore, un indefinito sentimento che stringeva il cuore. Ciascuno avrebbe voluto che tutto fosse già finito. Non di meno, verso le sette, questo grave silenzio si dissipò bruscamente. La luna sorgeva all'orizzonte e la sua comparsa fu salutata da milioni di evviva. Essa era puntualissima al ritrovo. I clamori salirono fino al cielo, gli applausi scoppiarono tutti intorno, mentre la bionda febe splendeva tranquillamente in un cielo purissimo e accarezzava la folla ubriaca con i suoi raggi più affettuosi. In questo momento apparvero i tre intrepidi viaggiatori e, alla loro vista, le grida raddoppiarono di intensità e un'anime istantaneo il canto nazionale degli Stati Uniti irruppe da tutti i petti commossi e lo Yankee Doodle, ripetuto in coro da 5 milioni di esecutori, si levò come una tempesta sonora fino agli estremi confini dell'atmosfera. Dopo questo irresistibile slancio, l'inno si tacque. Le ultime armonie si estinsero poco a poco, i rumori si dissiparono e solo un lieve mormorio si udì uscire da questa folla così profondamente commossa. Intanto, il francese e i due americani avevano passato il recinto riservato intorno al quale si stringeva l'immensa folla. Erano accompagnati dai membri del gun club al completo e dalle deputazioni inviate dagli osservatori europei. Barbie Kane, Fred Sereno, dava tranquillamente i suoi ultimi ordini. Nicole, con le labbra strette e le mani incrociate dietro il dorso, camminava a passi fermi e misurati. Michel Ardain, sempre disinvolto, vestito da perfetto viaggiatore, con le ghette di cuoio ai piedi e con il carniere al fianco, con le ampie vesti svolazzanti di velluto color marrone, con il sigaro in bocca, distribuiva il suo passaggio calde e strette di mano, con una prodigalità davvero principesca. Il suo brio e la sua allegria erano inesauribili. Rideva, scherzava, faceva il degno J.T. Meston tiri da birichino, si mostrava, per dirlo con una parola francese, parigino fino all'ultimo secondo. Suonarono le dieci. Era giunto il momento di prender posto nel proiettile. La manovra necessaria per discendervi, la lastra di chiusura ad assicurare con le viti, lo sgombero degli argani e delle impalcature che si piegavano entro la golla della Columbia, richiedevano un certo tempo del resto. Barbicane aveva regolato il suo cronometro a un decimo di seguito con quello dell'ingegnere Murchison, incaricato di appiccare il fuoco alle polveri per mezzo di una scintilla elettrica. I viaggiatori, chiusi nella palla, potevano in tal modo seguire la freccia impassibile che doveva segnare l'istante preciso della loro partenza. Il momento degli addii era dunque arrivato, e la scena fu commovente. Nonostante la sua febbrile giocondità, Michelle Ardawn si sentiva commosso e J.T. Meston aveva ritrovato sotto le sue palpebre asciutte una vecchia lacrima, che, senza dubbio, aveva riservato per questa occasione, forse senza neanche rendersene conto, e la versò sulla fronte del suo caro e bravo presidente. «E se partissi con voi?» disse egli. «Siamo ancora in tempo per cambiare idea!» «Impossibile, mio vecchio Meston», rispose Barbicane. Alcuni istanti dopo, i tre compagni di viaggio erano dentro al proiettile, di cui avevano chiuso ermeticamente la lastra di apertura, e la bocca della Columbia, del tutto sbarazzata, si apriva liberamente verso il cielo. Nicole, Barbicane e Michelle Ardawn erano definitivamente chiusi nel loro veicolo metallico. Chi potrebbe dipingere la commozione universale giunta allora al parossismo? La luna avanzava in un cielo purissimo, spegnendo intorno a sé i fuochi scintillanti delle stelle. Percorreva allora la costellazione dei gemelli, e si trovava quasi a metà cammino dall'orizzonte a dallo zenith. Ciascuno doveva dunque facilmente comprendere che si mirava innanzi della meta, così come il cacciatore mira innanzi alla lepre che vuole colpire. Un silenzio spaventoso pesava sopra tutta questa scena. Non un soffio di vento sulla terra, non un soffio nei petti. Era già tanto se i quali osavano battere. Tutti gli sguardi attoniti fissavano la gola spalancata della Columbia. Murchison seguiva con l'occhio l'ago del suo cronometro. Appena quaranta secondi mancavano all'ora della partenza, ma ogni secondo durava un secolo. Al ventesimo secondo, un fremito corse per la folla, alla quale venne in mente che gli audaci viaggiatori, chiusi nel proiettile, contavano contemporaneamente quei terribili secondi. Si udivano grida ma represse. 35! 36! 37! 38! 39! 40! E presto Murchison, premendo l'interruttore dell'apparecchio, ristabilì la corrente e lanciò la scintilla elettrica nel fondo della Columbia. Si udì d'un tratto una detonazione spaventevole, mai udita prima, sovrumana, di cui nulla può dare un'immagine, negli scoppi della folgore e nei boati delle eruzioni. Un immenso manipolo di fuoco, sorse dalle viscere del suolo come da un cratere, la terra si sollevò, e a malapena alcune persone poterono intravedere, per un singolo istante, la palla che fendeva vittoriosamente l'aria in mezzo a fiammeggianti vapori d'inferno.